Per quanto riguarda i rischi per la regione europea di Zika, il rischio di viaggiatori che arrivano dai paesi infetti verso l'Europa, sicuramente questo rischio è aumentato. Però la zanzara Edes non è presente nel periodo invernale, c'è poca attività nelle zanzare in inverno e il rischio di trasmissione in Europa quindi è molto basso, mentre ovviamente in primavera e in estate si verifica un aumento perché ci sono migliori terreni di cultura. Questo lucido proviene dalle CDC e l'Edes Egipti che è il tipo di zanzara che trasmette anche dengue e chikunguia è presente in Europa solo nella zona in rosso che vedete è nella parte orientale del Mar Nero. Però l'Edes Albopictus, un'altra zanzara, la cosiddetta zanzara tigre, forse la conoscete, che trasmette anche chikunguia, magari ricorderete che vi era in Italia nel 2007 nella zona di Ravenna, circa 300 casi all'epoca. Ed è presente ampiamente in Europa, in Italia, come vedete in Grecia, in Croazia, nel sud della Francia, in Spagna e anche in Germania, Repubblica Ceca, nei Paesi Bassi, quindi in altre zone. E quindi in linea di massima, se qualcuno che è affetto viene in Europa e viene a contatto con queste zanzare, quindi per esempio attraverso una puntura, queste zanzare vengono infettate e possono poi fungere da vettori nel resto dell'Europa. E quando vi era stata l'epidemia di chikunguia, vi era stata una reazione molto forte da parte del sistema sanitario pubblico e nel giro di pochi giorni vi era stato un isolamento totale, solo 235 casi mi sembra sono stati identificati, quindi il sistema sanitario pubblico ha reagito e ha fermato l'epidemia.